Ciao, siamo Graziana e faccio parte di una start-up che si chiama AdLab, proprio creativo, e ci occupiamo di stampa 3D e di design. Abbiamo realizzato con l'aiuto dei laboratori dal basso un laboratorio dal basso che si chiama Forme da Deriva, ed era un laboratorio incentrato sul design e sulla progettazione con un particolare occhio alle nuove tecnologie, e quale è stata stampata 3D. Abbiamo coinvolto i ragazzi nella progettazione in un paio di settimane, abbiamo condotto una co-progettazione e abbiamo realizzato degli oggetti che abbiamo stampato e che sono stati i protagonisti di una mostra. Abbiamo avuto una serie di risultati, prima di tutto, importanti legati alla diffusione di questo tipo di modo di realizzare gli oggetti, sia dal nato progettuale che dal punto di vista delle tecniche di realizzazione. Quindi questo ci ha dato modo di conoscere a sua volta altre persone che come noi sono interessate di questi temi e ci hanno a loro volta invitati in altre situazioni come un altro laboratorio dal basso in cui abbiamo partecipato e questo ci ha permesso anche di partecipare ad eventi regionali e ufficiali come l'ospitata nella paliglione della regione Puglia alla fine del Levante, l'edizione appena trascorsa. Quindi sicuramente abbiamo un scontro dal punto di vista dei contatti e anche dal punto di vista delle richieste di informazioni e anche poi di nuovi lavori per quanto riguarda la nostra giovane realtà.